di là no vio vio tanto guarda che dirà la stessa cosa è il pieno più alto poi c'è l'invito tanto c'è l'invito non puoi sbagliare però lo devi fare qua in costa perché se lo fai di là non c'è l'invito non devi alzare il tempo non devi alzare il tempo dai 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 mettigli qua un sasso barba mettigli su un sasso così non lo fa più nell'angolo ma va non lo fa tu fai così no lui arriva fa niente è l'unico modo per farglieli fare se no non li fa vedi che deve farlo di là per forza dai sì è l'unico modo no se c'è lì un coso allora non lo fai va le formiche che me le ammazzi tutte cazzo va anche la lumaca cazzarola guarda anche la lumacona porca miseria dai 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 tanto lo fa noi stessi oh sti cacchio di sassi porca loca porca miseria oh se non c'è sugli stivali sfighero tutti di pigli e chi è? questa è venuta bene viene una bella foto dal davanti guarda c'è arrivato il capo di tutti gli ostacoli quindi gli spiega lui come te lo deve mettere lì e te lo sposta te lo mette a posto e la capisci no oh uno che fa le gare figaro però non riesco a tenerlo su così là è troppo alto Paolo bisogna spostare il tronco è inutile che si continua eh non riesce a farlo non riesce a farlo bisogna spostare il tronco o più piccolo vieni lì a lui basta chiedere esatto basta domandarsi fa tutto quasi questo fra due mesi anche più esatto ma che Luigi sta pensando un'altra a posto allora le foto ce le abbiamo sicuro anche dai su sto qua davanti mi metto sotto mi devi saltare via allora no mi metto come fa il canobio come fa il canobio mi metto sotto e tu mi salti via vuol dire rischiare la vita così 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 fai vai e c'è l'invito no vediamo se me lo fa vai vai ormai ormai peggio di così perché per me se sbaglio mi ammazza davvero non è non è non è non è non è ha rotto il troppo oh eh vai vai cazzo di colazione infatti stamattina cosa hai rotto anche il coso sì basta 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 ma noi era non sa io che faccia che c'avevo 12 12 12 12 12 12 12 ma su era 12 ma che faccia c'avete stamattina morto sì mi sono messo lì io di invito cioè con la schiena così di modo che passava sopra non ho mica fatto cambia tanto eh sì ma basti vai va cazzo tu come come